ciao bella a tutti ragazzi sono il tarocco d'oro ultimamente non sto facendo più dei video perché sto aspettando che mi arrivi fino a dieci a posto e a fare dei video per uno intanto mi scuso e se non solo lo potrò fare ma poi c'è proprio un bacio e in questo video come potete l'avete potuto vedere alcuni di voi anche sul canale di Giove c'è il mio grazie amico e ispirato al suo in pratica cerco di non studiare in pratica cerco di non studiare in pratica cerco di non studiare in pratica cerco di si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A prendere questi pacchi e poi continuo a studiare. Intanto appena mi arriverà FIFA 16 apposto per voi un video di una partita. Ciao a tutti ragazzi. Bello.